Ecco fatto la quarta scena Siamo pronti signore In caso di depressionizzazione mettete la maschera sul viso per nascondere l'espressione terrorizzata agli altri passeggeri Mi scusi signorina ma queste non dovrebbero essere attaccate al sedile No signore Ok ragazzi lanciare 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 Esatto Non sono al secondo Ciao Mortino Ciao Ma che strano Ehi qualcuno sta sognando eh Mi è sembrato di vedere Mortino là fuori Hai ancora il Madagascar nella testa Sì ma è stata una cosa incredibile Una bella vacanza Già che sembrerà più divertente quando saremo lontani da qui Quando mi hai morso una chiappa Prenderò questa storia che mi sembra non ti vada giù e la userò nello spettacolo Farà parte della mia insalata mista ad attore di bocconcini emotivi Che sono chiappe insieme ai crostini in quella tua insalata mista Non c'è bisogno di sarcasmo Sapete ragazzi stavo pensando quando torniamo mi iscrivo al programma di riproduzione Riproduzione? Credo che tutti a un certo punto nella vita vogliamo incontrare qualcuno con cui sistemarci Avere una relazione seria Ti ci vedo Cioè vuoi dire uscire con qualcuno? Sì infatti Con altri 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 maschi? Come sarebbe altri maschi? Accidenti Vado a... ma perché non passa il carrello delle bibite? Vado a dare un'occhiata Sì voi chiacchierate pure Musona la quarta scena a Madagascar Il carrello delle bibite? Vado a dare un'occhiata Sì voi chiacchierate pure Io faccio un pisolino Hai visto quello il fonte buffo? A me piace ridere È un'esperienza piacevole Per ridere Ok stacco Scusa ti dispiace tornare di là Ok stacco Ok stacco Niente di personale È solo che siamo migliori di te Ehi Moris Sono pronto Tira Tira Scusa ti dispiace tornare di te Scusa ti dispiace tornare di te Scusa ti dispiace tornare di te